Sono Mauro, guido i gatti dalle nevi e faccio parte della Snow Division di Carosello 3000. Quando la sera io e i miei colleghi ci dividiamo i compiti, cerco sempre di prendere le piste più alte, esterne e isolate dai comprezzori. Il fatto di essere immerso in un grande spazio bianco mi fa sentire rilassato e a stretto contatto con la natura. Quassù le montagne e il paesaggio mi regalano sensazioni indescrivibili. In più questo mi permette di osservare bene le montagne e cercare nuove linee nel backcountry. A volte finisco di fresare le ultime tracce al sorgere del sole e nonostante la stanchezza non riesco a resistere a una discesa solitaria in neve fresca. Ci sono giorni in cui mettere a tacere il rugito della macchina e godere del soffice cristallino canto della neve sono le cose che mi ricaricano e mi fanno apprezzare ancora di più questo lavoro e qui mi sento totalmente libero. Perché la montagna prima di essere un lavoro è libertà.